Una due giorni di studi sull'impresa sociale, quella organizzata da Iris Network, è che questa mattina, nella sede della Fondazione Banco di Napoli, ha visto un doppio confronto sulla social innovation e l'impresa sociale nel terzo settore, con riferimenti al quadro della riforma. Tra i relatori, il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Bobba, che ha così spiegato la riforma. L'obiettivo della riforma, che è contenuta nel disegno di legge delega, che ha un perimetro più ampio per riguardo il complesso degli enti del terzo settore, l'attenzione, lo zoom dedicato all'impresa sociale ha fondamentalmente tre obiettivi. Il primo è di recepire anche nella legislazione italiana il meglio che è nato e cresciuto anche nella dimensione comunitaria nella dimensione europea. Il secondo è di creare delle condizioni perché non solo le cooperative sociali, ma anche altre forme giuridiche societarie possano effettivamente far nascere, far crescere una nuova stagione di imprese sociali. Il terzo aspetto è quello di creare delle condizioni come sono state fatte per le start-up innovative e tecnologiche anche simili, analoghe a quelle che già ci sono anche per le imprese a vocazione sociale. Circa la salute dell'impresa sociale in Italia è intervenuto Carlo Borzaga, presidente uscente di Iris Network. Beh direi molto migliore di quella delle altre imprese, almeno se sto ai dati per esempio dell'andamento della forma più nota di imprese sociale che è la cooperazione sociale negli anni della crisi, mentre in Italia si sono distrutti oltre milioni di posti di lavoro nelle imprese private e ne hanno perso 500 mila, le cooperative sociali hanno aumentato l'occupazione di 80 mila unità. I dati espressi dalla ricerca sono commentati dal nuovo presidente Iris Network Marco Musella. La ricerca è a un punto anche interessante perché in questi anni insieme al fermento che ha animato le imprese sociali anche il mondo della ricerca è stato attraversato da grande attenzione a questo tema. Sociologi, economisti, studiosi della società più in generale hanno approfondito in diversi modi il modo in cui è strutturata questa impresa, che è un'impresa un po' sui generis rispetto al pensiero tradizionale, perché non fa profitti non all'obiettivo del profitto ma all'obiettivo dell'utilità sociale.